Buongiorno, siamo qui con il signor Sapone, imprenditore agricolo da più generazioni e da tanti anni ormai, forse ci siete cresciuto dentro. Sì, sì, da 25 anni. E qui siamo nella sua serra appena realizzata con il piano di sviluppo rurale 2007-2013 che prevedeva incentivi per lo sviluppo di aziende agricole e qui stiamo coltivando il fagiolino. Al signor Sapone voglio chiedere tre cose rapide ed efficaci, visto la sua esperienza. Quali sono le tre cose più importanti che si sente di consigliare a un giovane imprenditore agricolo che vuole coltivare ortaggi? Quello è quello che si sente, pomodoro, melenzani, fagioline, insalata, zucchino. Dove le vende questo tipo di prodotti che lei fa regolarmente ormai anno dopo anno? Noi le portiamo al mercato generale, frutte e vendole. Si vive di agricoltura? Si vive, sì, come si dice, alla giornata. Senta signor Sapone, ma cosa si sente di consigliare a un giovane alle prime armi che deve iniziare un'attività agricola? Quali sono le cose più importanti da considerare, secondo lei? Più importanti? Non lo so, dipende da quello che lui vuole fare. Ci sono tante possibilità. Sono questi incentivi che c'è dalla regione, costruire delle serre pure. Cosa ha imparato lei in tutti questi 25 anni di attività? Quali sono le cose più importanti che ha imparato? Sono tante cose, ancora dobbiamo fare pure esperienze, ma quelle che le vengono in mente, va? Le più importanti? Che ti devo dire? Abbiamo imparato tante cose, in queste pure imparare, perché non si finisce mai. È un mondo sempre nuovo, quello dell'agricoltura. Sì, sì. Le piace il suo mestiere? Sì, sì, tanto. La mattina quando si sveglia pensa alle cose da fare? Sì, sempre, pure già alla notte, già pensiamo quelle che dobbiamo fare la mattina. Quali sono le coltivazioni che ha qui in azienda? Noi abbiamo i pomodori, il fagiolino, abbiamo i ciliegi che sono molto belli, molto... sì. Che tipo di varietà sono di ciliegie? Abbiamo la ferrovia, abbiamo la giorgia, che sono buone, e il vecchio dorone di una volta pure. Bene, bene. E poi si va in produzione ogni anno, sono in biologico? Sì, i ciliegi sono in biologico, sì. Molto bene. Qui, col signor Sapone, in questa splendida azienda è tutto, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. A bevedeci. Ciao.